Tranquillo Nemo, è solo il mio gatto Tranquillo Nemo, è solo il mio gatto Aspetta, lo sto facendo tipo 50 frame Perché penso che... Passate, non ti blocca il filmato Lo bloccherà Basta, dai Dai, eh È una minchiata, la possiamo finire pure oggi Nemo, Nemo? Cosa vuoi finire oggi? Tutto In cosa posso esserti utile? Tu fai le domande e io rispondo A disposizione tutta la mia conoscenza Non lo stavo guardando E così ci stiamo sei anni Dai, fai In cosa posso esserti utile? Tu fai le domande e io rispondo A disposizione tutta la mia conoscenza Com'è? Va bene, era giusto come attacchi Però se la fai recitata è bene Finchia, come hai recitato? Porco cane, ok In cosa... In cosa... In cosa è più intenso? In cosa posso esserti utile? No No, sì In cosa ti posso essere utile? No In cosa ti posso essere utile? In cosa posso essere utile? In cosa posso essere utile? In cosa posso essere utile? Più giù Quindi Russia In cosa posso... E' tipo la fra... E' sempre la siamo, sempre nell'est In cosa posso esserti utile? In cosa posso esserti utile? Sapore di sale... Però devi compare, devi vendere Sempre quella cosa del personaggio tipo Sei tu, sei allegro come te lo sai In cosa possa essere utile? In cosa posso esserti utile? Vediamo Vabbè In cosa posso esserti utile? Tu fai le domande e io rispondo A disposizione tutta la mia conoscenza Tutta Vi abbiamo preso ed azzerato E poi vi abbiamo preso ed azzerato Così, così, giusto Per insegnarvi a combattere E poi vi abbiamo preso ed azzerato Per insegnarvi a combattere E poi vi abbiamo preso ed azzerato per insegnarvi a combattere a combattere e poi vi abbiamo preso ed azzerato per insegnarvi a combattere dammi solo il vizio quando devo partire faglielo con la mano e poi vi abbiamo preso e azzerato per insegnarvi a combattere per insegnarvi a combattere lo dovevo rifare? si lo dovevo rifacerti silenzio e poi vi abbiamo preso e azzerato salutami Nicola e poi vi abbiamo preso e poi qual è? e poi vi abbiamo preso e azzerato per insegnarvi a combattere ma questo è un'altra cosa ora devi dire questo ma a quanto pare tu sei l'errore che speravo non avrei mai commesso ma a quanto pare tu sei l'errore che speravo non avrei mai commesso ma ma a quanto pare tu sei l'errore io faccio il gesto quando devi iniziare quindi è ma a quanto pare tu sei l'errore che speravo non avrei mai commesso perfetto ma a quanto pare tu sei l'errore che speravo non avrei mai commesso e ma andava il tempo ma a quanto pare tu sei l'errore che speravo non avrei mai commesso ma a quanto pare tu sei l'errore che speravo non avrei mai commesso Grazie a tutti.